E benvenuti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Minecraft con il mio amico Nicolò Che è un po' scemo Salve proprio, salve un salve proprio di quelli Oggi stiamo facendo una vanilla insieme Che continueremo un po' insieme dai Vatta a pia un po' di... aspetta io voglio capire da te C'è un'accetta Ok Levati quella skin Levati quella skin Fai schifo Fai schifo Poi fate un sondaggio, scrivete quella sola skin Non so come di scrivere perché mi fa schifo È bello o no? L'hanno vista! Si è... All'attacco! Rimmagione John! Aiuto questo è lo zombie di Fortnite Questa è la... la... la ghoul troppo... Mi sto morendo! Ahahahah! 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 Un cuore! Un cuore! Un cuore! Anche se è troppo forte... È morto ma... Ehm... Mico! Sto dietro la montagna! Qui! Oh! Ripassa... Ripassa dove eri prima! Cioè... Ripassa dove eri tu prima! Scappa! Ah! C'ho due cuori! C'ho due cuori! C'ho due cuori! Ah! No! No! Uno zombie! Mezzo cuore! Mezzo cuore! Schifo! Scappa! Cacca! Cacca! Eccolo qua! Il tool! Ma che belluto Nico! Ma me lo potevi dire che era così bello eh? Muori! Col picco... Mamma mia ragazzi! Col picco non uccide! Sì! Mi dai la lana? Due... Dammi due... Dimmi... Eh sì dimmi! Dammi eh! Dammi... Dammi due cuori... La lana grigia... La lana nera e la lana bianca! Dammeli un po'! Grazie! Dammi la lana grigia! Nebbie nera! Sotto il tonico! Porca trota! Tu! Eh! Puliti! Eh! Un buco nella terra! Come te! Guarda! Oh! Nicolò! Metti... Vai sul letto Nico! Vai sul letto e poi levati! Vai! Adesso... Adesso rispondi... Solo qua! Adesso puoi rispondi solo qua! Questa sarà... Dobbiamo vivere qua adesso! Esploreremo! Intanto... And... Andiamo nella miniera! Pippo! Andiamo... Mannaggia Pippo! Guarda! Ti vorrei tanto uccidere! Dobbiamo trovare... Una miniera... Dobbiamo... Uh! Carbone! Buono! 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 Ah! Ma io... Perché sono subito! Vabbè! Nicolò! Ti do un incarico! Vatti a fare un piccone... Un piccone in legno! Vai! E almeno poi... Prendi il coso... Come cacchio si chiama la... Il coso... Il carbone! Dai vai a... Vai a fare un piccone in legno... E prendi il carbone! E prendi la... Eh oh! Poi prenderemo i diamanti! Sai! Porta pure la grafting table! Forse... Questa vanilla... Comunque tu non sei mai... Non sei mai... Apparso in un mio video! Sì! Non sei mai apparso... Non sei mai apparso! No! Manco su Fortnite! Quello l'avevo cancellato dei video... Perché avevi fatto... Tante cose! Quindi l'avevo dovuto cancellare... I ricordi! Vabbè! Questo qua vabbè! Per chi lo conosce... Tra voi... Un po'... Gay! Peccato che tu non puoi essere... Un mio iscritto! Guarda! Che non ti puoi... Nicolò! Iscriviti al canale! E attiva la campanella! Comunque... Cicco! Scherzo di schifo! Amore! Mezzo cuore! Aiuto! Porca troppo! Vieni qui da me! Io ti ho detto... Prendi la crafting table! Fatti un... Prima fatti un piccone... Poi... Prendi la crafting table... E portala qua! Muori! Ci porta la porta della porta della porta! No! No! È letto la cellulina intanto! Prendi la porta! E' da me! E' da me! Francesco! E' da me! Che ti ha detto? Ok c'è un po' però Guarda La benda è sempre più grande Dammelo Ho fatto Tieni tu ti prendi questi due picconi Io ce ne ho tre Prenditeli Tieni Vai scava Oh Dobbiamo pure un po' Ok sto prendendo un paio di torce Poi facciamo un coso un po' Poi dobbiamo scavare due per due Tipo una cosa del genere E almeno proviamo a trovare No 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 aiuto aiuto Ferro No Creepy porca trota Creepy No schifo schifo No nico 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 Porca trota nico che non vieni mai Ovcide 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 Sta andando per il meglio questo video Un pezzo di ferro Sono andato a morire per un pezzo di ferro no qua c'è una miniera di pezzi di ferro ma adesso prende il ferro almeno lo cuciniamo ci facciamo già la spada in ferro un piccolo in ferro troviamo i diamanti e abbiamo fatto comunque la spada in ferro e il piccolo in ferro sono miei perchè tu fai schifo io odio gli scheletri perchè perchè io li odio perchè loro è morto è decisamente ti ficcano una freccia posso un po' ah ma perchè io avevo una cassa e manco me ne era accorta la potevo piazzare va bene oh zitto in dando ho trovato ferro gali oh questo è il protagonista tu sei apparsi in un mio video quello di gali oh zitto pezzo di leggi pezzo di io c'ho 50 torce ok mi faccio oh ma qua c'è un terzo pezzo di ferro eh infatti perchè un pezzo eh ecco perchè c'è no oh c'ho 5 pezzi di ferro io lo sai ho 5 pezzi di ferro eh intanto mi fa a me una spada in ferro e un piccolo in ferro così ah 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 muori una pecora muori pecora pecora di oh pecora devi morir oh oh mi si è bloccato tutto che cosa oh oh ma mi sono cagato vabbè si mi sono preso uno spavento oh ho visto un maiale ecco perchè mi è venuto da di porco cane porcellino oh schifo porcellino d'india ecco oh ragazzi l'abbiamo trovato guarda qui quel porcellino d'india che fa la legna guardatelo 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 tieni escere che aiuto è un orco di con una pancia dobbiamo trovare una miniera e andarla a scavare eccola qui mamma mia eh no non lo sai che bello io sono un italiano veramente guarda un italiano proprio bello ciao ma ti sei abbronzato Nicolò eh ma guardalo come sei ma che schifo vattene sei abbronzato sei abbronzato aspetta che mi abbronzato pure io io va bene che schifo fammi base base no tu non ho paura di metterlo no 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 ma io me la ricordo questa roba nico ciao salve no no il tuo peggio rinco ma io ho me sono morto ecco perché sono morto da tre anni Nicolò ho messo un paio di pietra un paio di pietra un paio di pezzi di pietra te stai zitto potresti andare a prendere la pietra fa il serio dai dobbiamo un po' cavarcela un po' per un po' e vabbè non lo sapevo oh Nicolò vai a prendere vabbè lasciamo per vai a prendere la pietra e poi dobbiamo e fatti un piccone una spada quello che te devi fa sto impazzito sto qua è un pirla non ho parole prego io sono molto felice che morirai un giorno somebody want un po' pe di un po' eh ho capito ma questo pure un po' di cervello non ce l'ha vieni nella miniera adesso vieni nella miniera aspetta che devo mettere un paio di impostazioni lo devo mettere eh perché devo mettere eh cacchi carola ci promesso non li uso eh mantieni inventario devo mettere solo mantieni inventario perché già io so già scusate se lo metto non voglio citare però io lo metto perché so già che Nicolo morirà così tante volte pure io eh per carità però lo so che lui morirà più volte di me perché già c'è morto una volta quindi no quindi noi stavamo stavamo facendo eh ahia eh eh ma quello era il tuo mondo il tuo mondo è sfigato no non sono più bravo scrivete nei commenti che è più bravo tra Nicolo e me sicuramente loro diranno me perché mi muoiono bene che cazzo sta la felici Gesù ragazzi aiuto ma che cosa ha fatto mio fratello che è davanti vabbè lasciamo perdere Nicolo sta già a due morti sei a due morti tunicolo ma che c'è di era era lo stress era lo stress non vi preoccupate era solo stress è è andato un po' da riposare lui non vi preoccupate è riposare e guarda guarda che sta andando in gira e non zombie adesso è diventato una zombie perfetto non è successo niente quale se ho un maiale allora fammelo mangiare che lo odiavo figlio ti ha imparacchiato no ti ha imparato male sto il tuo zio eh tuo zio tuo zio è uno scuolo di no di no no oh andiamo gli staminieri andiamo a fare un po' di roba per favore please fatela e allora andiamo senza spada ti proteggo io vabbè picchi col piccone vai avanti non li faccio più i video con lui guardate oh adesso scrivete nei commenti no aspetta scrivete nei commenti lo voglio allora Nicolò resta scrivete non lo voglio e Nicolò se ne va per sempre nei video non lo vedrete mai più e allora seguimi eh che hai detto che non te sei e me attiva la campanellina no comunque lascia sto ferro e vieni nella miniera con me se non vuoi che ti no Nico lo sto prendendo io vai andiamo nella miniera andiamo andiamo vieni vieni porca trota vai avanti a me vai allora andiamo questo è di studi comunque scrivetelo sempre perché scrivetelo voi o non lo voglio io comunque devi pregare scrivo già dico non lo voglio se ero nel video di david e david diceva porca trota iscritti aiutami sono morto per colpa tua godo adesso muori anzi vengo io perché ti voglio bene bravo ciao andiamo qua sta del ferro più avanti del ferro scava verso lo zombie dai vicino a te porca trota la grave nicolò vai nicolò vai al coso ti levi scrivete tutti non lo voglio godo porca eh non ti posso aiutare oh ti ho salvato il culo adesso oddio era morto praticamente oh ragazzi sono un supereroe io veramente cioè l'ho salvato dalla morte dire una buffa aspetta mo scendo mo scendo porca trota non serve le sali quanto poi scendo quindi se ho più mi aiuti e forse e forse i miei iscritti diranno che tu resterai più non mi aiuti te ne vai vai sotto vai sotto ad aiutarmi per favore prego vai basta che mi aiuti eh allora non devi far così perché se fai così poi a me mi salgono i nervi qua c'è già lava è lava bravo pirla muori sali da solo qua c'è fai e lo vai a prendere la lava te butti arrivo mamma mia e io posso per di qua andiamo a vedere io sto su oh qua lava vado a prendere questo ti immagini il carbone l'ho trovato prima comunque questo trova tanto ferro jack potto jack potto jack ciao ci potto ahia mi sono fatto male oh ciao nico ma dove stai vieni qui da me allora no che c'è che c'è ahahahah ahahahah non sono morto mi hai spawnato un ragno in faccia oro sono fortunato yeeeh ahahahah eh ma intanto è bello ti puoi fare mele d'oro nooo salto mamma mia che pro vieni qua da me allora che ti aiuto io eh allora allora sta finita tutta la lava qui ma boh se la sa cioccia non posso non so come si teletrasporta una persona scrivetelo nei commenti please no non è vero ma se l'hanno ma io ste cose manco le so perchè me l'hanno fatto dall'ultimo aggiornamento della 1.14 perchè la 1.15 e la 1 eh non lo so se la 1.15 questo credo che l'hanno no no perchè la 1.16 ancora non arriva credo oppure la 1.15 cattio ne so io quando che punto sia Natale eh la siamo a ammortizzare il coronavirus insomma oh ra cose no no ma perchè guardate l'ho trovato un dungeon strano sì quel dungeon l'ha trovato però Nicolò ti prego corri sono tante cose strane l'ho trovato eccolo quasi te lo possono trovare i casse no chiudi barica no ragni venosi no non li voglio grazie manco gli scheletri ne posso far pure a meno non mi servono tante le osse che ne so dove sono andato mi ha sparato uno scheletro soccorso via corri c'è un tunnel vieni scappa ho trovato un canyon no porca ti vuole bene da una parte un po' sconosciuta che noi tutti siamo no di poveri no perché ho messo che non si può perdere il loot quindi ma che rincogionito mamma mia che sei eh perché io no io sono tu scrivete nei commenti che è più rincogionito però sei ancora pirla quindi mamma ma veramente ma guarda ma no mamma tranquillo no mio nonno è intanto la quinta perché tu sei stato bocciato ho trovato diamanti che culo mi sono girato e li ho trovati no perché yeah un diamante detto su coso no due diamanti siamo che e su shield io l'ho rimesso però l'hai rispondito da un'altra parte perché tu non te la pesca chiudi scaccoli nico ci siamo rincontrati uuuu oh no nico girati ciao no solo con quello in ferro mi dispia no prendi il torto non lo voglio no la lava la lava porca che fortuna quattro cuori no no ti prego vivi sono vivo la sto prende io ma tu ce l'hai un po' di carbone fate sto carbone io mi faccio la pietra e ci facciamo una fornace e cuociamo il ferro va bene quanto ok perfetto fai schifo il carbone il carbone sembra stupido ma in realtà ho trovato altri diamanti no io pensavo che era solo uuuu cioè che pensavo che erano pochi invece erano altri no no ci vado io ci vado solo forte io non ci vado per me il video è di minecraft io lo faccio su minecraft suicidati fine basta addio cose che ci fai l'amore non è vero eh volevi voi a casa voleva va bene questo non lo porterò ragazzi per me mettete non lo portiamo più mettete non lo voglio perché io c'ho quasi uno stacca di ferro me ne manca uno tieni dolci io ti do 30 di di cosci di pollo tieni ciao ma c'ho solo quello io c'ho una bistecca e basta che piva oh siamo arrivati finalmente moriamo fine ho uno stacca di ferro mamma si che ci risponi guarda che risponi allora risponi nel punto iniziale mamma mia la gravel di schifo è schifo marcella ecco perché sei un po' riparo pirla è ossidiana spavone di ragni schifo muori 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 targhetti oh io ho trovato l'amicizia di un ragno non mi attacca che carino guardalo non mi attacca no c'è un ragno che non mi attacca che bello piccolo ti chiamerò gino che schifo schifoso leggi è diventato stracciatelo gatto pardo ma io mi posso fare una spada in diamante più un piccolo in diamante ma no oh no scheletro 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 basta mi rifiuto no ragazzi basta sto qua è una persona orribile Nicolò vieni qui da me ok me faccio una spada e un piccolo in diamante li trovati io si allora li prendo io se vuoi ho visto ho visto mi spazio ho visto mi spazio che amante ti amante ti amante ragazzi sono andato addosso sono ma di quanto vedi vedi ti butto sono jeky chan non mi conosci te godo jeky chan mi spazio mi spazio mi spazio io adesso ho rimesso che se muori perdi loot quindi appena muori Nico perdi loot me lo prendo eh magia proprio negra ma sei tu razzista razzista muori oh ragazzi ma voi non lo sapevi cioè io ve lo dico ma voi non sapevate che Nicolò era razzista ma io non te so di questo che vuoi cosa no questo mi giudica questo mi giudica e quindi se è vero se è vero che sei razzista e io ti rincogionisco come la mettiamo somebody won't fuck you father father not you eh lo so io le posso di tu no per chi mi vuole bene non lo mette sta cosa e allora tu fai schifo cebo devo levare l'acqua e prendere l'oscidiana che tu non c'hai il piccone in diamante sai piccolo oh no le diamanti ce lo potevamo tenere no l'ho preso facciamo l'enchant in table invece del caso della musica no 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 nico nico ti prego dammi almeno un diamante poi quando ne trovo altri diamanti te li do te te lo giuro pilla dai fai una cosa seria nella tua vita usa quel diamante per l'enchant in table questo non sa niente di minecraft però ma io non ce li ho i diamanti no guarda ragazzi se questo spreca il diamante per una cavolata invece che l'altra crafting table io con lui ci faccio sto video e poi non più ma fa schifo cosa serve ma mi dovete dire ragazzi cosa serve il jukebox è preso non è da fastidio sono un paio di no ma io c'avevo una pala eccola qua mi dai quel diamante te prego quando ne trovo uno te lo ridò quel diamante se tu me ne dai uno mo io ti do il diamante che mi hai perso no 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 non si fa è piccolo pirla non si fa così ma dove stai ma no torna al punto dove sei risponato torna al punto dove sei risponato danno almeno quel diamante e basta ma fallo per una cosa seria vieni eh il piccolo intanto serve nicolò se devi poi prendere un po' di tempo per far stimmiare o fare qualcosa staccati le cuffie e poi farlo ti prego scappa dai scappa te lo lascio vabbè te la posso dare la lana te la posso dare la lana ma ti so dare la lana no raga basta io con lui ci faccio sto video e basta sarà un po' divertente oh te posso dare la lana ma ti voglio no vabbè raga questo non non ha idea di quello quando perdere vita arriverò io ma 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 oh finalmente oh finalmente adesso prendiamo questo oh ok perfetto intanto posso prendere ah ok perfetto top ragazzi sono fortissimo oh ma guarda qua che c'è un po' di ferro eh la patata la fiamma che se ne frega dopo tutto oh ok perfetto non me ne frega di quello che ho fatto sono sono fiero un pilla vivente tu non hai voluto chi se ne frega dopo tutto vabbè ragazzi guarda mi vado a fare un chanty in table e poi credo che questo video finisca perché qui poi ci devo fare una discussione un po' in privato eh poi però dopo che ha detto vabbè andando facciamo oh ma devi restare ancora nel party vabbè chi ha chi ha dice vabbè allora stacce perché 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 sì vabbè lasciamo però possiamo evitare di discutere e discutiamo dopo perché 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 sì ah ma i libri ce li abbiamo raga no vabbè lasciamo perdere chi se ne frega di lui che se n'è andato eh intanto non mancherà nessuno no aspetta aspetta che lo devo un attimo mutare almeno non non lo sentiamo nel video credo almeno lo so vabbè almeno l'abbiamo mutato che se ne frega ok ragazzi mi cucino questa carne prova a farmi aspetta la pelle dove ce l'abbiamo la pelle sì tre la carta dobbiamo fare carta andiamo a provare a fare un libro ci serve uno oh un libro possiamo facci l'enchant in table dai dai l'enchant in table l'enchant in table no come 4 pezzi di ossidiana vabbè lo faremo nel prossimo video fa niente un momento teniamoci diamanti qui o io l'ho dovuto fare perché c'è non si poteva continuare così mi tengo questi cosi nell'inventario perché ho paura che poi quando provare proverà rientrare me li ruberà intanto mettiamo questa qua l'enchant in table qui il ferro non è caduto ma no non è caduto raga non vi preoccupate è solo scivolato questo poi lo metteremo a cucina nel prossimo ciò porca trottona ok perfetto finalmente posso mangiare ok qua vabbè intanto si cucinerà mettiamo la rexton dentro il piccone dentro e mettiamo a cucinare questo questo è mio anche l'oro mettiamo questo e credo perché e credo per questo video è tutto e credo che vabbè sì e credo per questo video è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina quella qui sotto al video e puoi mettere mi piace beh ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi